E anche questa trentottesima giornata si conclude qui, tutti gli MC's e le crew stanno rientrando negli spogliatori, ma a centro del campo rimane Clancy Records Line. Grazie a tutti. I am ready to call my friends so we can all get down with the party Hey, 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 Mr. DJ Hey, Mr. DJ You can get this started Everybody's ready to party All night, all night All the girls are ready So we can all get to wait Can't party till the break of the Oh, oh, oh Everybody move your body And I'll do it It's something that's gonna make you move And groove Hey, DJ You can play that song DJ Crazy Records Live Remix I tifosi stanno abbandonando lo stadio Ma a quanto pare c'è un Ultras che è rimasto in curva e non se ne vuole andare Don, 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 don Grazie a tutti